ciao raga bentornati sul mio canale youtube finalmente possiamo mettere gli occhi sulle prime immagini ufficiali di fifa 23 in realtà durante queste settimane abbiamo avuto la possibilità di giocare la beta senza chiaramente poter registrare dei contenuti visto che si trattava della versione preliminare del gioco e non di quella definitiva ma grazie alla possibilità che ha dato ai suoi creators è possibile andare a guardare effettivamente qualche immagine di gioco quindi io ho diviso questo video in categorie partiremo dalla difesa andremo poi sull'attacco su tutte le novità calci piazzati e infine andremo a vedere anche il nuovo super tiro vi lascio in descrizione i video di ron e del mio amico holly dal quale ho catturato queste immagini mettetevi comodi e gustiamoci il primo fifa 23 io partirei dalla difesa innanzitutto perché anche da quello che è stato il test che ho fatto io sulla beta mi ha fatto capire determinate cose che ci tengo a condividere con voi innanzitutto partendo da questo fermo immagine prima di far partire il video notiamo subito che nel momento in cui il nostro giocatore si trova all'interno dell'area di rigore la difesa avversaria sembra schierata abbastanza bene vi dico sembra perché nel momento in cui noi andiamo a far partire le immagini e vediamo che ci muoviamo con una certa rapidità dentro l'area di rigore e soprattutto utilizziamo anche magari delle skill e su questo argomento ci torneremo dopo la difesa non reagisce in maniera così repentina come succedeva gli anni passati anzi e soprattutto visto il netto calo degli autoblock che c'è almeno c'era sulla beta uno stile di difesa passivo secondo me o almeno troppo passivo non è la scelta più giusta anche per un altro motivo che andiamo a vedere in questa seconda clip sappiamo che è stata introdotta una nuova meccanica su fifa 23 che approfondiamo dopo che è quella del super tiro super tiro che ti dà un grande boost nel momento in cui andiamo a scagliare questo tipo di conclusione che ricordo è manuale quindi bisogna indirizzare per bene il tiro e poi richiede anche un pizzico di tempo per caricarlo quindi quando noi abbiamo in questa situazione tanto spazio e non andiamo ad aggredire effettivamente l'avversario che si sta prestando a caricare la sua conclusione ci esponiamo ad un rischio pericolosissimo infatti guardate invece qui con tutto il tempo che ci mette dei bruin la reazione che ha in questo caso l'avversario con van dyke di uscire preventivamente per andare ad intercettare la conclusione quindi io credo che quest'anno bisognerà essere molto bravi a mixare i due stili di difesa perché va bene una difesa passiva ma non troppo perché negli ultimi metri bisogna stare molto molto attenti a quelli che possono essere scambi veloci ed isolamenti con le skill e vi dico di skill perché non c'è troppo quella componente di micro movimenti almeno sulla beta che avevamo visto negli altri fifa quindi più una skill per giocarsi l'isolamento piuttosto che semplicemente un destra sinistra e anche come vi dicevo bisogna stare molto attenti agli spazi lasciati fuori dall'area di rigore perché un super tiro può punirci in un qualsiasi momento quindi bisogna essere molto molto bravi a capire quando uscire alti magari anche a centrocampo per recuperare palle e lanciarsi in contropiede quando cercare invece di rimanere un po più bassi questo per quanto riguarda la difesa secondo me sono i due cambiamenti più grandi passando invece a quella che è la fase offensiva qui andiamo ad analizzare tutta una serie di situazioni perché come vi dicevo micro movimenti non sono più così decisivi secondo me tornano molto più importanti le skill ma non solo perché ho trovato molto più consistent molto più solidi anche i passaggi con la x che rispetto al passato quindi tornano un'opzione viabile e soprattutto all'interno dell'area di rigore negli ultimi metri con scambi molto rapidi tra le nostre punte guardate qui ci può tranquillamente permettere di arrivare ad una conclusione pulita conclusione pulita che ci tengo a farvi notare in questo caso ad incrociare perché il tiro ad incrociare mi è sembrato molto 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 forte qui andiamo a vedere un'altra conclusione ad incrociare ma come vi dicevo le skill guardate il doppio passo che sembra essere tornato quello di fifa 21 quanta velocità ci permette di prendere saltare il nostro diretto concorrente e poi ancora una volta la conclusione ad incrociare piuttosto che quella sul primo palo che ho trovato un pelo meno efficace guardate ancora qua un'altra conclusione di a land su un passaggio che sembrava innocuo di prima che si va ad insaccare ancora una volta stesso discorso da quell'altra mattonella qui invece arriviamo su un'altra opzione che secondo me è molto 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 buona così come lo era gli anni passati che è quella del filtrante alto filtrante alto che quest'anno sfrutta anche una nuova meccanica che è quella dello stile di corsa diverso dei vari giocatori in questo caso vediamo lanciato un un cancelo scusatemi un teo hernandez in campo aperto che ha questo sprint questo passo un po più lungo rispetto a cancelo che stava difendendo quindi gli passa alle spalle ma vedremo anche in un'altra clip successivamente con cristiano ronaldo nel dettaglio cosa significa questo questo lancio abbinato ai nuovi stili di corsa non solo il filtrante alto ma anche quello basso rimane un'opzione molto interessante lo andiamo a vedere qui anche se ho notato che rispetto ai titoli passati bisogna essere un po più attenti a quella che è il dosaggio della potenza della direzione perché appaiono un po più manuali qui avete visto invece come il micro movimento non sia così fluido come era sugli scorsi fifa qui andiamo a vedere invece lo stile di corsa novità abbiamo tre stili di corsa diversi che vi ho illustrato anche nel video precedente guardate ronaldo qui come dopo aver controllato palla con il suo stile di corsa esplosivo prende campo e poi ancora una volta arrivato all'interno dell'area di rigore va a concludere qui di nuovo de bruin si gira ma è un girarsi macchinoso non un girarsi agile con quei micro movimenti classici poi arriva in area di rigore in una posizione anche un po strana va a calciare ad incrociare e il portiere per poco non combinava una frittata qui esattamente quello che vi dicevo prima lancio lungo con ronaldo che al con di maria scusatemi che alle spalle di quondè addirittura fa lo sprint in avanti mette la testa per controllare questa palla si presenta davanti ad il portiere e conclude ancora una volta ad incrociare ma guardate oland ragazzi parte dal cerchio di centrocampo falcata ampissima e poi arriva all'interno dell'area di rigore stessa cosa con verner vedete con l'attaccante lanciato un difensore come van d'aik che quindi è più pesante ha uno stile di corsa diverso come faccia più fatica a stare dietro agli attaccanti che ormai hanno perso e sono andati sul lungo e ci sta perché se io sono stato bravo ad isolare il mio giocatore che ha campo aperto davanti a sé è giusto che un van d'aik non lo recuperi mai se non con lo scuterone qui un'altra soluzione interessante per quanto riguarda le conclusioni che quella del del tiro di prima perché li ho trovati molto carini anche senza time ed qui ancora una volta ronaldo che da centrocampo parte con il suo stile di corsa esplosivo dentro l'area di rigore tiro ad incrociare teneteli molto bene a mente ma poi quando uscirà il gioco sapete che qui troverete milioni di tutorial e di guide su come finalizzare difendere eccetera ma questi mi sono sembrati molto molto buoni sono cambiati completamente anche i calci piazzati sia i rigori che le punizioni che i calci d'angolo che hanno bene o male lo stesso stile qui vi faccio vedere una punizione che va battuta e poi va scelto il l'effetto desiderato andando a posizionare quel bersaglio all'interno del del riquadrino stessa cosa accade sui calci d'angolo che come potete vedere rimangono un'opzione molto viabile anche battuti sul primo palo perché i colpi di testa sono anche quest'anno assolutamente una opzione da andare a sfruttare per cercare di segnare piuttosto che cercare sempre il solito il solito schemetto che non porta a nulla una situazione invece di criticità molto grossa che ho riscontrato è quella degli arbitri perché specie per quanto riguarda i calci di rigore ncsp non ci siamo proprio come direbbe franchino il criminale perché anche qua potete vedere come abbia fischiato un un rigore inesistente qui per una trattenuta va a dare rigore nuovamente qui il difensore interviene perfetto sulla palla e viene fischiato di nuovo un calcio di rigore quindi mi aspetto che su quali sugli arbitri ci sia un aggiustamento già poi sulla release finale del gioco perché vi ripeto abbiamo giocato ad una beta e il tutto può cambiare poi sulla versione definitiva concludiamo con quello che è il super tiro super tiro che questa nuova meccanica che viene azionata con l1 r1 manuale il tiro ma molto più potente e preciso lo vediamo in questo caso con manè che all'interno dell'area di rigore super tira e va a trovare però la risposta del portiere questa invece una situazione simile a quella che vi ho mostrato precedentemente con l'ottima difesa da parte del van dyck qui invece vedete come la difesa passiva del dell'avversario non lo vado a premiare perché de bruin ha tutto il tempo di caricare il super tiro e soprattutto da queste mattonelle centrali ragazzi miei guardate qui che mina che ne viene fuori e de bruin spacca la porta e punisce il l'avversario che era stato troppo lento nell'andare a coprire però vi dicevo occhio e molta attenzione perché il tiro è totalmente manuale quindi se arrivate qui all'interno dell'area di rigore e visto che siete abituati ai tiri semi andate a mirare verso il basso ecco che manè arriva dentro ma il tiro diventa praticamente un cross che è destinato a spegnersi poi in rimessa laterale quindi per questa prima infarinatura i punti salienti per me cruciali sono questi qua e vi devo dire che però onestamente la beta mi è piaciuta e sono curioso di vedere cosa ne verrà fuori poi sul titolo finale questo video è tutto ragazzi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate cosa vi aspettate da questo nuovo titolo che secondo me promette abbastanza bene in descrizione vi ricordo tutti i link di riferimento a me non resta altro che augurarvi una buona domenica un saluto nei riberoschi ciao